Una vicenda a lieto fine. Sergio Solimo ha abbracciato suo figlio Francesco dopo una odissea durata a lunghissimi anni. Avvocato Enrico D'Amato, è stata la vittoria della tenacia? Sì, è stata la vittoria della tenacia dell'amore di un padre per un figlio, che ha portato avanti Sergio Solimo per cinque anni. È stata una lotta incredibile e oggi sapere che il bambino è fra le braccia del padre è la vittoria più grande che si poteva ottenere. Una vittoria che forse il piano umano avanza sul piano professionale, ha il sopravvento sul piano professionale, mi sbaglio? Seguire una vicenda con questi contorni e di questa importanza va a toccare soprattutto la parte umana di un professionista. E quindi io ho perorato la causa di Sergio in tutti i luoghi possibili e l'ho fatto per l'amicizia che mi lega a Sergio. Perché Sergio aveva bisogno di aiuto e anche io sono padre e so che cosa significa tornare a casa la sera e non avere la possibilità di abbracciare il proprio figlio. Io mi sono immedesimato in Sergio e ho cercato con tutte le mie forze di aiutarlo. Questa è stata una vittoria della tenacia quindi di tutti, della tenacia dell'avvocato Antonella Sciubba Damiano, che è la nostra corrispondente in Venezuela, che ha avuto una forza incredibile anche oggi, perché oggi in tribunale si sentivano, forse le grida da Caracas si sentivano fino a Sant'Arsenio, dei parenti della signora che cercavano in tutti i modi di contrastare questa giusta riconsegna del figlio al padre. E quindi mi sono sentito coinvolto soprattutto umanamente e lo sono tutt'ora. Quindi la gioia è stata quella di portare questa notizia ai nonni, di far ascoltare ai nonni la voce del piccolo Francesco che promette... Quali sono state le prime parole di Francesco? Il piccolo Francesco sentiva la nonna al telefono e ha detto «Nonna, sto venendo da te, aspetta, mi giochiamo insieme». I tuoi occhi si stanno inumidendo, e questo la dice lunga, solo la passione, solo l'impegno che hai profuso per la conclusione all'ittofine di questa vicenda. Una vittoria, chiamiamola così, che ha coinvolto l'intera comunità santarsenese. Si sono sentiti tutti coinvolti in questa vicenda, ma ripeto, soprattutto per chi è genitore e chi ha amore verso i figli e verso i bambini soprattutto. Perché non è legittimo sottrarre ad un bambino l'abbraccio del padre, come non è legittimo nemmeno sottrarre l'abbraccio della madre. Noi non abbiamo nulla contro la madre. La madre ha pensato di operare in questo modo, in maniera sbagliata, ma noi vogliamo che il bambino continui ad avere i rapporti con la madre. Noi non siamo lei. Noi vogliamo che il bambino cresca sapendo di avere un padre ed una madre, separati, ma un padre ed una madre che gli vogliono bene e che sono presenti nella sua vita. Grazie. Grazie.